... Oggi ci troviamo nel presbiterio della Bazzia di Valbisciolo e andremo ad analizzare la pala detta della Madonna della Rosa che è una sagra famiglia realizzata dal Samo Nanzi e portata in dono da Pio IX nel 1860 per la nuova rubrica Dentro l'opera. In origine questo dipinto faceva parte di un importante ciclo decorativo costituito da ben sei altari completi appunto di pale finalizzato a rinnovare l'aspetto della Basilica Romana di San Lorenzo fuori le mura in vista del giubileo del 1625. Iniziano l'impegno, l'incarico di questa decorazione proprio i fratelli romani di origine bolognese Giulio Cesare e Bartolomeo Savonanzi che utilizzarono per il quadro il loro parente Pittore Emilio fatto venire probabilmente da Bologna o da Cento dove è possibile che stesse lavorando con il Guercino, secondo il Malvasia. Per l'esecuzione della Santa Ciriaca che fa seppellire i corpi dei martiri ora collocata in Basilica nella Cappella di Sant'Arcisio tale prima opera dovette evidentemente piacere molto tanto che Savonanzi ebbe l'affidamento nel tempo anche di altri tre dipinti e decise di restare proprio a Roma. La pala eseguita quindi dal Savonanzi fu appunto la Sagra Famiglia con i Santi Elisabetta e Giovannino che ora si trova appunto qui a Valvisciolo in portata come abbiamo già detto da Pio IX nel 1860. Gesù tiene in mano una rosa rossa e la sta consegnando al padre putativo Giuseppe. Nell'antichità la rosa aveva anche una connotazione simbolica funeraria che la tradizione cristiana assimilò e infatti questo fiore con le spine viene collegato all'immagine del tormento e anche del martirio. La rosa è comunque anche un simbolo mariano e Maria viene detta rosa senza spine proprio perché è senza peccato originale. Nella pittura figurativa si è molto diffusa infatti il tema della Madonna della rosa ma in alcune rappresentazioni anche come per esempio questa di Valvisciolo anche il bambino viene raffigurato con una rosa rossa. Questa rosa nelle mani di Gesù è simbolo evocativo della sua futura passione. Altri segni che alludono alla passione di Cristo sono da vedersi nell'aureola del bambino che se ci fate caso è a forma di una croce. Nel trono su cui poggia Maria che non è un trono normale è un sarcofago ed anche nella presenza del Battista che con il suo cartiglio ci ricorda il sacrificio della Newsday. In secondo invece abbiamo una quinta architettonica con un'alta balaustra e una grande quercia. Quanti sono i tentativi in direzione caravaggesca per quanto riguarda l'uminismo a Bagliori del quadro. L'opera del Savonanzi si delinea così come una riflessione cristiana al mistero sacrificale del Cristo. Giuseppe accetta la rosa e si fa strumento del volere di Dio. Gesù indica con le due dita ben evidenziate appunto la duplice sua natura umana e divina ed indica il San Giovannino che è colui che annuncia l'arrivo dell'agnello sacrificale la Newsday ed ecco che il mistero si svela agli occhi del fedele. Grazie a tutti. Grazie a tutti.